Quella scuola è stata accorpata a Labarini, conosciamo tutti quanti questo fatto, però era importante restituire al quartiere e soprattutto ai ragazzi un polo educativo, quindi non c'è più una scuola, ma abbiamo detto cosa vogliamo fare. È partita una procedura di evidenza pubblica a cui ha risposto Save the Children con un bel progetto e poi è stato l'unico concorrente per cui abbiamo dato in comodato d'uso questi locali e a breve nascerà questo punto delle arti che sarà quindi uno spazio importante, insomma uno spazio di aggregazione per il territorio che insieme al nuovo skate park che verrà costruito insomma sempre nella zona, alla palestra della legalità che già opera sarà un bel filone proprio insomma come punto aggregativo per quel quartiere. Quanto durerà questo accordo, questo comodato d'uso per i locali? Guardi, questo comodato d'uso è un contratto di un 4 più 4, quindi si rinnoverà ogni 4 anni tacitamente. C'è comunque la clausola che qualora dovessero servire nuovamente delle aule per la scuola, se noi dovessimo avere bisogno, ci ridaranno 5 aule la mattina per fare la scuola. Poi insomma sarà un progetto importante perché aggregherà tutte le associazioni che magari ci sono nel territorio. E' importante sottolineare che questa è un'operazione a costo zero per l'amministrazione? Assolutamente, anzi l'amministrazione ci guadagna in quanto Save the Children farà una ristrutturazione dei locali. Ha presentato un progetto per un valore di circa 320 mila euro di ristrutturazione che poi rimarrà alla scuola, quindi tutto quanto c'è da guadagnare anzi che perdere. Costo zero, attività completamente gratuite per i ragazzi e quindi insomma speriamo che parta presto, solo questo.